Ragazzi iniziamo il video come abbiamo sempre iniziato YAMME 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 AL YAMME 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 Fai così, da da YAMME YAMME YAM Ragazzi, bentornati all'interno del canale migliore di YouTube Oggi siamo qui con i boys Perché andremo a fare un video veramente piccante Che non abbiamo mai portato assieme all'interno del canale L'abbiamo fatto ma solo in privato Solo in privato Off camera abbiamo fatto anche cose molto più spinte Perché oggi, dopo la Whisper Challenge Ripeschiamo nei meandri di YouTube Una challenge incredibile Ovvero la Touch My Body Challenge Come chiameresti tu invece questo format? Ti tocco o ti scopo? Ti tocco o ti scopo? Ovviamente come avrete sicuramente intuito Dalla frase di Dada Questo gioco consisterà nel O toccare una persona o scoparsela Vediamo Sì, così via Se non indovini Da parte Una persona che quasi tutta lì è scopata Dio mio Oh madonna Cavoli Cavoli Allora L'abbiamo strutturata in questo modo Ci sarà una persona qui in mezzo seduta Che dovrà indovinare Da bendata Ovviamente La bend è sempre quella di Dada Che utilizza quelle tipe che si porta a casa Tipo quella di stasera No E i due esterni Adesso capiamo chi inizia Dovranno porgere una parte del corpo alla persona bendata Che questa persona dovrà toccarla esclusivamente con la punta del dito Accompagnata dall'altra persona Accompagnata Sarà un casino Sarà un orgia praticamente Quindi si può dire che possiamo anche forgere l'altra guancia E in più voglia di indovinare Non sarà semplicissimo perché abbiamo veramente tanti parti del corpo da farvi vedere Iniziamo? Pronti? Uno, due, tre Bim, bu, ba Sempre due, 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 due Vabbè non è ridicola sta cosa Cioè non ha senso Vado? Già capisco che uno che si muove così male è Simone Ora proviamo a mischia di nuovo Prova indovinare la parte del corpo È una parte del corpo un po' dura Beh siamo solo felici di essere qui Qui o è il cazzo Ma non è così ossoso Capito? Rifammela sentire un attimo Posso una volta? Per sentirla? Che cazzo è sta roba? Passatemi le cuffie Le cuffie con vanno a bailare Il bello di sto gioco è mettere in difficoltà Guarda ci sono parti che tu pensi che possono essere Chissà quante volte hai toccato la ragazza da parte del nostro corpo Oh come mai? Una mano? È troppo generico Devi dire di dove è la parte esatta Nel caso del corpo Il dorso della mano? Veramente E sentivo queste venature Faccio un'altra? Certo 1-0-0 Aspetta che mi metto bene Non ho parole Non ho parole Ve lo giuro Se il culo mi cazzo Se il culo mi cazzo È una cosa morbida Molle Vabbè c'è Quindi o è lo scroto Ma non è così molle Non è così molle È un po' più molle A meno che non sia il mio scroto Non sono sicuro che diavoli Perché la tua mano muscolosa con gli addominali si sente Qualcuno la prendi Va bene Va bene Da mia parte del corpo Rimettila Non potete cambiare rispetto a prima Fede cosa state facendo? Ma basta Queste cazzate Il culo È il culo? No No Cosa è? Questa parte qui Ah ma non hai un culo pure lì No Cazzo questo è difficile Sai come si chiama quella? The Termination Cavo Popliteo È quello Il cavo Diglio Cavo Popliteo Cambio Senti che non fai domande Mi allaccio da solo Andatevene via Do ti imbrogli Quante sono queste? Vabbè Devo a quattro Vai Oh Eh non ho capito ragazzi Fanno un po' più Fanno sentire Che caso Appoggialo Eh ma non posso Eh cambia parte Dove sono? Una foresta Appoggialo bene Non muovere dito No no si fermo Appoggialo però Cazzo Che sono cose più semplici Perché senza vista Automaticamente Non vedi? È vero Non vedi senza vista Ecco perché Ci siamo vendati Non l'ho capito Non l'ho detto Far rifare Fammelo col sinistro Hai più sensibilità Col sinistro Puoi Adesso Non riesci neanche a muoverla Stamaro Chiudi Così Vai Oh Con questo Oh Toccamelo qua E no con la punta No con il polpastrello Mi so cantare No O il naso O questo Cosa Ripeti O il naso O questo La risposta definitiva Quale delle due? Quale delle due? Una delle due Potete dire se una delle due è giusto Eh una delle due devi dire Tanto è sbagliato Dite una Dico Quello? O il naso? Il naso Che cos'era? Ho sbagliato Il dente Come il dente? Te lo giuro Il dente Cazzo è impossibile Eh Difficilissimo Bravo Tu hai le faccette Tu hai le faccette Sì sì Il dente di Simo era Può essere anche di nuovo Simo Decidete voi Quante sono queste? Non vedo niente Come è di una? Uno No Giusto Non tanto non No se mi metti questo qua non capisco Tollimi questo Esatto No non sei ragazzi Devi appoggiarlo Non si sente Ma cosa cambia? Ste foreste O di nuovo Oh fermi Fermi Prendimi da qua Simo O Riki E fammi toccare con questo Ma spingi bene Questa era una palla Una palla Non possiamo suggerire Era morbido Posso ritoccare? L'ultima volta Ti adorbitai Schiaccia bene Sì Ecco giù Dai morbido Sembrava una patata Sembrava Una? Una patatina No non ce l'ho Dai rispondi una Dillard Spendering Posso ritoccarlo? No basta Basta Perché se no Non capisco Cazzo Morbido Sì era il pisello Dai Spendering Spendering Con il pallo O il pisello Che cos'era la palla? No la punta del cazzo Ah la punta del cazzo Era morbido Ma io la punta del cazzo C'ho la forma di patatina Sì Sembrava una patatina Ma te l'hanno dato fastidio questi Tantissimo Ti l'hanno buttato fuori Fuori campo Fuori campo Vai alla caccia Vuoi le cuffie con la musica Dai Magari Cambio No No Adesso ho preso l'udito Questo Non posso più toccare niente Ho preso l'udito Ma perché non ho preso l'udito di genere Questo video Quindi animale Dove ho iniziato? Cos'è? Non lo so Sono sicuro che sia l'udito Questo è il piercing Il piercing Il piercing Cos'è il piercing? Non il piercing Il piercing Questo qua è il laso L'ultima toccata Ultima toccata Ce l'ho diventa dura anche questa Magari È difficile però Sto gioco Bello Sì Io avrei detto il laso prima Però Se non è il laso È Ah è l'orecchio Assolutamente no Sai cos'era? Vai Ti metti Eh sì Ma l'avevo proprio dimorso Dalle parti del corpo Il pomodoro Io non ce l'ho È perché non tutti ce l'hanno Io gli ho A me non c'è più Ma forse sì Facco Ce l'ho anch'io Facco Non ci credo Porca miseria Prossimo? Prossimo Oh Dio Dio Che male hai fatto toccare? Ma che male hai fatto toccare? Ma che male hai fatto toccare? Che è? Ma che male hai fatto toccare? Vuoi l'uovo o vuoi impensarci? Sì Solo un'altra Eh perché poi se non è troppo semplice Troppo facile Ma questo è un bel tumore Ma che male Ammaniaci Ma che male hai fatto toccare? Vai ce l'hai? Ce l'hai? Questo non si può far toccare tre volte La punta è la lingua? No Fermo adesso ti smediamo mentre lo tocchi Vai Tieni l'ho là Appoggialo Tieni l'ho Tieni l'ho Ah di Ah di Ma dove c'è? Ma poi è muscolosissima Ma comunque è muscolosissima Toccalo È difficile Bellissimo Bello Cambio Ho paura Ragazzi L'ultima volta che ero così ero a casa di Dada legato al quad dietro Ma è casa mia sta roba Aspetta aspetta Ah Devo Caglione Devo Però non devi balare No giù 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 Non vedo niente Si non balare perchè se no Ho gli occhi chiusi anche Devi parlare devi parlare perchè capito Oh cosa state facendo Oddio Già che è in questa posizione Non ho capito minimamente Basta con quella zip È una roba morbida ma anche dura allo stesso tempo E proviamo Perchè da sotto? Cosa mi state facendo toccare? Eh se no capisci Cioè ti cambia le posizioni apposta come facevate voi prima con me Ok Ultima volta Tutto Difficile la parte sotto del piede È piaciuta il piede Vabbè che sono fetticista qui Ma poi devi sentirlo no Ma come sentirlo? Con l'odore È difficilissimo È difficile questo gioco Tu non devi barare eh Antoine O Antoine cosa? Dio 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 Lo scrocchio di Ehm Non è un croco No ma non è quello Come no Dio No 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 Alte due volte puoi toccare No Non voglio toccare altre due volte Tu devi rispondere all'ultima Senti Eh? Deve essere quella Ti avrà facciato a toccare Ho paura di sta roba cos'è? Ti avrà facciato a toccare l'ultima volta Dio Dio Ah una consistenza che siamo uno slime Il cazzo da qualche parte L'ultimista L'ultimista No basta No fa no È il gioco Fammi con la destra scusa Posso non usare il dito anche? No Milla di no Non ci credo Che siamo arrivati a questo È un buco Morbido No cos'è? Cos'è? Pensavo peggio L'ombelico scende No ti giuro pensavo Se avessi messo il mio Poi mettilo Un po' più duro Un po' più duro Cosa pensavi che fosse Il buco del culo? Si il buco del culo O qualche buco strano che hai solo tu Però sembra un buco morbido Te lo giuro Ma sembra tipo Frastagliato Tipo sacca scrotale Capito? Potete scrivere qui sotto i commenti che cosa serve l'ombelico Cambio? Oh Oh Dai 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 È male Oh Quanti attimo questo? La lingua La lingua La lingua La lingua La lingua Siiii Mi sento? Si Mi sento un po' vai Finalmente uno No Meno male Però è La sentivo umida L'ho sentita umida si Se no non avrei capito un cazzo Prossimo? Si Pronto? No No Oh, che schifo! Cos'era quella? In mezzo alle chiappe questo era, però ho paura di farlo. Fammi lo usare. No, non puoi, non puoi, se non capisci. Che schifo. Seconda volta. No! No, questo fa schifo, mi giuro, non lo so. Sì, dolce, soli, dolce. Ah, tutti e due avete il culo peroso, quindi potrebbe essere la strisciola del culo. Quei peli, ma poi era morbido. Decidi tu, risposta definitiva, non sbendarti eh. Non si può, senti la pezza? Posso tornare io? Sì. Vado dentro, questo era il culo di Mike, parco a dire. Bastardi. Il culo di Mike non riconosco. Fai un'altra volta Che schifo no 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 Ci sono troppi peli Dai da da Sì io dico il buco del culo Il buco del culo di chi? La chiappa in mezzo Di chi? Di Simo Non sbendarti Sbenderti Giusto? Il maestro Il maestro dei buchi di culo Lo chef Lo chef Ultimo giro Cambio Per tutti sono Montmètre Sono Montmètre Sono esattamente due Aspetta ancora Aspetta Aspetta Inizio Inizio Oh e che è? E che è? Oddio ma che mi avete fatto trucca? wow che è sta cosa, che cazzo mi hai fatto toccare, abbrifirisco un'altra mano, ma non riesco mai capire, ma poi è mezza abbagnata, è mezza penosa sai che abbiamo anche la figa noi no, è un testigo, non penso proprio, no sai che le palle sono sudate ogni tanto che schifo, che schifo, che schifo chi fa sport? no, l'ultimo eh oddio ma perché Mastro avrebbe le mani? ma che mi avrei fatto toccare cos'è? qualcosa di tuo, perché se dopo io qua qui oddio, che parte vuoi, sarà sicuro la parte schifosa sarà, quale parte schifosa di Mastro? il culo, in serio no, il piede l'abbiamo già fatto ah lo so che è, cos'è? è l'ascella bravo! che schifo che schifo che schifo ma c'è la scena vai sai sei 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 Sì, giù, è qua. Oh, ma che è? Il concerto? Ma che siete a fare? Ma chi c'è qua davanti? Guarda a me c'è un ballerino brasiliano. Oddio, Romano. Ma in che cazzo di posizione siete? Guardate quanto è... Che è? Che è sto cuscinetto che mi avete fatto a toccare? Ma chi è? Ma poi sento più voci di quanti ne siamo partiti. Ma che cazzo dici? Ma chi è? Ma che male hai fatto a toccare? Ultima volta? No, altre due. No. Ma che è? Adesso tocco e poi sbendi. Tocchi, lo dici, poi sbendi. Ok. Beh, secondo me è tipo la luce del piede. Fatemi. Venna? Venna? Ma... Ahahahah 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 Ma porco giuna! Ma porco giuna Dio Moro! Toccala. È bellissima. È bellissima. Ma quindi ti senti messo a me? Bello! C'è una puzza di piedi di Martin nel naso io Non l'ho minimamente sentito io che ha fatto tutto Che si è messo quasi, è spogliato Eh, è il cogiore Tutti zitti io Mannaccia, è un bello, bellissimo Complimento a tutti ragazzi Ragazzi, non siamo più gli stessi di 20 minuti Non siamo più gli stessi di 20 minuti fa Abbiamo le dita che sanno di qualsiasi parte del nostro corpo Madonna Guardate che gira Ringraziamo l'enorme contributo di Mike Che si è prestato per questa cosa Fateci sapere sotto nei commenti Anche questa volta se volete un secondo episodio Finché esauriranno le nostre parti del corpo No, ma non ce ne metteremo anche Con delle ragazze magari Magari no Noi vi ringraziamo Anzi, grazie di cuore Non mi toccare con quelle mani, che schifo Mi schifo Vi salutiamo, vi ringraziamo E ci vediamo prestissimo Con altri tanti contenuti Adios e hasta luego Arrivederci